Buongiorno a tutti. Prima di iniziare mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella. Per essere aggiornato e non perderti nulla, infine ascolta fino alla fine, perché ti accorgerai di quanto è potente il nostro messaggio e quanto ti aiuterà nella vita di tutti i giorni. Oggi vi racconteremo la storia di James Clerk Maxwell, uno dei più grandi scienziati del XIX secolo, è meglio conosciuto per il suo lavoro rivoluzionario sull'elettromagnetismo. La sua vita è un esempio eloquente di dedizione alla scienza, con un'indagine instancabile delle leggi fondamentali che governano l'universo. Nato in Scozia nel 1831, Maxwell ha mostrato un interesse precoce per la scienza. La sua infanzia è stata segnata da una curiosità insaziabile e da un'intuizione scientifica notevole. Sin da giovane si è dimostrato affascinato dal mondo naturale, passando il suo tempo libero a esplorare e a sperimentare. All'età di 16 anni, Maxwell iniziò a frequentare la Edinburgh Academy, una scuola rinomata per la sua enfasi sull'istruzione scientifica. Qui ha coltivato i suoi interessi scientifici, mettendo in luce un talento innato per la matematica e la fisica. Dopo la scuola, Maxwell iniziò la sua carriera accademica all'Università di Edimburgo, prima di passare al Trinity College di Cambridge. Durante questi anni sviluppò un apprezzamento profondo per la bellezza intrinseca della fisica e si dedicò al suo studio con passione. La sua passione per la fisica lo ha guidato a fare scoperte rivoluzionarie. La sua teoria elettromagnetica ha cambiato il modo in cui comprendiamo l'universo, fornendo le basi per molte delle tecnologie che oggi diamo per scontate. La sua ricerca ha mostrato un'intuizione straordinaria e una capacità di pensare in modi nuovi e innovativi. La teoria elettromagnetica di Maxwell rappresentò un vero e proprio salto avanti nel campo della fisica. Con la sua intuizione, Maxwell fu in grado di unire in un unico quadro teorico le forze elettriche e magnetiche, dimostrando la loro stretta interrelazione. Questo modello rivoluzionario ha aperto la strada a ulteriori sviluppi nella fisica del ventesimo secolo, tra cui la teoria della relatività e la fisica quantistica. Un'altra pietra miliare nella storia della fisica fu l'equazione di Maxwell. Questa equazione, che descrive il comportamento delle onde elettromagnetiche, è oggi alla base di molte delle nostre tecnologie moderne, come la radio, la televisione e il telefono. L'equazione di Maxwell ha reso possibile anche la scoperta delle onde radio e delle microonde. Maxwell non si limitò a studiare l'elettromagnetismo, ma si dedicò anche alla teoria cinetica dei gas. Con la sua ricerca, riuscì a dimostrare che le proprietà dei gas possono essere spiegate attraverso il movimento delle loro molecole. Questi studi hanno gettato le basi per la termodinamica statistica, un ramo fondamentale della fisica moderna. Nonostante fosse un fisico di primordine, Maxwell non trascurò altri campi di studio. Fu infatti lui a dare un contributo significativo alla teoria del colore, dimostrando sperimentalmente che ogni colore può essere ottenuto dalla combinazione di tre colori primari. Questa scoperta ha avuto un impatto notevole non solo in fisica, ma anche in arte e design. Infine, tra le scoperte più importanti di Maxwell, vi è quella delle onde elettromagnetiche. Riuscì a dimostrare che la luce è una forma di onda elettromagnetica, unendo così il campo dell'ottica con quello dell'elettromagnetismo. Questa scoperta ha rivoluzionato la nostra comprensione dell'universo e ha aperto la strada a innumerevoli scoperte scientifiche. Riflettendo sulla natura della luce, Maxwell fece una scoperta rivoluzionaria. La luce era un'onda elettromagnetica. Questa scoperta, che sfidava le concezioni esistenti, aprì la strada a una nuova comprensione dell'intero spettro elettromagnetico, inclusi raggi X e ultravioletti. Maxwell aveva un punto di vista unico sulla teoria dell'elettricità. Egli propose che l'elettricità, come la luce, fosse un fenomeno ondulatorio. Questa idea rivoluzionaria ha portato alla realizzazione della prima corrente alternata, cambiando in modo permanente l'industria dell'elettricità. L'approccio di Maxwell alla risoluzione dei problemi scientifici era altrettanto innovativo. Egli combinava intuizione con rigore matematico, facendo avanzare la fisica teorica. Il suo metodo di lavoro, basato sull'osservazione, la formulazione di ipotesi e la verifica attraverso esperimenti, è ancora oggi un modello per i ricercatori. James Clerk Maxwell ha cambiato la nostra comprensione dell'universo con le sue teorie e scoperte. Attraverso il suo lavoro sulla luce e l'elettricità, ha aperto la strada alla fisica moderna, dando forma alla nostra comprensione dell'universo e della realtà fisica. Maxwell rifletteva anche sulla connessione tra religione e scienza. Pur essendo un fisico di fama mondiale, riteneva che la fede e la scienza potessero coesistere. Le sue riflessioni spirituali e scientifiche hanno lasciato un segno duraturo, mostrando come la scienza e la fede possono informarsi a vicenda. James Clerk Maxwell era noto per le sue scoperte scientifiche significative che hanno cambiato la direzione della fisica. La sua ricerca sulla luce e l'elettromagnetismo ha rivelato nuove verità sull'universo che erano precedentemente incomprensibili. Le sue scoperte hanno gettato le basi per la fisica moderna e hanno aperto la strada a nuove aree di ricerca scientifica. Maxwell aveva un approccio innovativo all'apprendimento e all'insegnamento. Non si limitava a memorizzare fatti e cifre, ma cercava di capire veramente i concetti e le teorie. Questo approccio all'apprendimento ha permesso a Maxwell di fare scoperte rivoluzionarie nel suo campo e ha influenzato il modo in cui la fisica viene insegnata oggi. Durante la sua vita, Maxwell ha ricevuto numerosi onori e riconoscimenti per il suo lavoro. Il suo contributo alla scienza è stato riconosciuto da istituzioni accademiche e scientifiche di tutto il mondo. Questi onori riflettono l'importanza del lavoro di Maxwell e la sua influenza sul campo della fisica. Maxwell ha giocato un ruolo fondamentale nella creazione del concetto di campo elettromagnetico. Le sue equazioni hanno descritto per la prima volta come le forze elettriche e magnetiche interagiscono tra loro. Questo concetto è fondamentale per la nostra comprensione dell'universo e ha gettato le basi per lo sviluppo della teoria quantistica. Le teorie di Maxwell sull'energia e la sua conservazione hanno anche avuto un impatto significativo sulla fisica. Ha sviluppato l'idea che l'energia non può essere creata né distrutta, ma solo trasformata da una forma all'altra. Questo concetto di conservazione dell'energia è un principio fondamentale della fisica moderna. L'influenza di Maxwell sulla fisica quantistica è incontestabile. Le sue teorie elettromagnetiche hanno aperto la strada alla scoperta del fotone, la particella fondamentale della luce. Questa scoperta ha gettato le basi per lo sviluppo della meccanica quantistica, un pilastro della fisica moderna. Il ruolo di Maxwell nella comprensione della teoria delle onde è altrettanto significativo. Attraverso il suo lavoro sulle equazioni dell'elettromagnetismo, Maxwell ha dimostrato che la luce è un'onda elettromagnetica, unendo così i campi della luce e dell'elettricità. Questa scoperta ha rivoluzionato la nostra comprensione del mondo naturale. L'importanza della ricerca di Maxwell per la scienza contemporanea non può essere sottostimata. Le sue scoperte continuano a essere fondamentali in una serie di campi, dalla fisica alla chimica, dall'ingegneria alle telecomunicazioni. Senza il suo lavoro, molte delle tecnologie che diamo per scontate oggi non esisterebbero. Le idee di Maxwell sulla natura della realtà fisica hanno influenzato generazioni di fisici. Credeva fermamente che le leggi della fisica dovessero essere basate su principi matematici solidi e che la comprensione del mondo fisico dovesse essere guidata da un rigoroso ragionamento scientifico. In conclusione, l'impatto duraturo di James Clerk Maxwell sulla scienza è indiscutibile. Le sue scoperte hanno modellato il corso della fisica e continuano a influenzare la nostra comprensione del mondo. Maxwell non è solo un gigante della fisica, ma una figura fondamentale nella storia della scienza. Il fascino inesauribile di James Clerk Maxwell. Vita, opere e citazioni memorabili. James Clerk Maxwell ha lasciato un'eredità scientifica duratura, ma è stato anche noto per alcune frasi d'effetto che riflettono la sua profonda comprensione della scienza e della natura. Ecco alcune delle sue citazioni più famose. Sull'immortalità della conoscenza. L'uomo di scienza abbraccia la verità, per quanto ardua essa possa essere, con l'aiuto di tutta la sua ragione, senza che alcuna considerazione personale lo distolga. Sulla creatività scientifica. Il vero segreto della creatività è conoscere come nascondere le proprie fonti. Sull'importanza della visione. Il vero scienziato non è chi si impegna a sostenere una teoria particolare, ma chi cerca nuovi modi di pensare. Sulla bellezza dell'equazione. Non c'è nulla di più affascinante di una nuova equazione. È come vedere per la prima volta un nuovo pianeta attraverso un telescopio. Sulla semplicità in fisica. L'arte della ricerca scientifica è porsi domande giuste. La scoperta consiste nel trovare la risposta giusta. Sul potere della matematica. La matematica è la lingua in cui Dio ha scritto l'universo. Sul connubio tra scienza e fede. Il vero scienziato non ha compiti, tranne quelli che impone a se stesso. La scienza è un cammino, non una destinazione. Sulla teoria dell'elettromagnetismo. La teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell è uno dei grandi trionfi dell'umanità. Non c'è nulla di cui essere più orgogliosi. Non c'è nulla di più bello. Nonostante la sua figura rinomata e le sue numerose realizzazioni scientifiche, James Clerk Maxwell era anche un individuo interessante con alcune curiosità e peculiarità nella sua vita. Ecco alcune curiosità e aspetti meno noti su Maxwell. Ingegnoso fin dall'infanzia, Maxwell mostrò una notevole abilità matematica fin dalla giovane età. Si dice che abbia scritto un saggio sull'ovale quando aveva solo 14 anni. Passione per l'arte e la poesia. Oltre alla sua eccellenza in matematica e fisica, Maxwell aveva un interesse per l'arte e la poesia. Durante la sua vita ha scritto poesie e ha persino composto una parodia di un poema di Lord Byron. La teoria del demonio di Maxwell. Nel campo della termodinamica, Maxwell ha sviluppato la teoria del demonio di Maxwell, un concetto ipotetico che coinvolge un piccolo essere capace di operare una sorta di valvola selettiva tra particelle veloci e lente in un gas. Questo concetto ha provocato discussioni profonde sulla seconda legge della termodinamica e sulla sua interpretazione. Viaggi in Europa. Maxwell amava viaggiare e trascorse del tempo esplorando l'Europa. Durante questi viaggi entrò in contatto con altri scienziati e intellettuali dell'epoca, arricchendo così la sua prospettiva. Creatore del primo selfie. In un'occasione, Maxwell ha creato un ritratto, che potrebbe essere considerato uno dei primi selfie nella storia, utilizzando uno specchio e una lunga esposizione fotografica. L'immagine mostra Maxwell in piedi con uno sguardo serio. Curiosità religiosa. Maxwell era un uomo religioso e fu influenzato dal cristianesimo. Era attivo nella chiesa di Scozia e ha scritto su come la sua fede e la sua scienza potessero coesistere. Nome immortalato nelle equazioni di Maxwell. Le sue celebri equazioni dell'elettromagnetismo sono fondamentali per la teoria elettromagnetica. I quattro insiemi di equazioni portano ancora il suo nome e sono fondamentali per la nostra comprensione moderna del comportamento delle onde elettromagnetiche. Questi aspetti della vita di Maxwell contribuiscono a dipingere un ritratto più completo dell'uomo dietro alle eccezionali realizzazioni scientifiche. La teoria della relatività di Einstein ha avuto un'influenza significativa da parte del lavoro di Maxwell. Le equazioni di Maxwell hanno dimostrato che la velocità della luce è costante, un concetto che Einstein ha utilizzato come punto di partenza per sviluppare la sua rivoluzionaria teoria della relatività. L'impatto di Maxwell sulla tecnologia moderna è innegabile. Le sue scoperte sulla luce, l'elettricità e il magnetismo hanno aperto la strada all'invenzione del telefono, della radio e della televisione. Inoltre, le sue teorie sono alla base della moderna tecnologia delle telecomunicazioni, dell'elettronica e dell'informatica. La filosofia di Maxwell sulla natura e l'universo era profondamente radicata nella sua fede cristiana. Credeva che la comprensione scientifica del mondo fosse un modo per apprezzare l'opera di Dio. La sua visione integrata di scienza e fede continua a influenzare il dialogo tra scienza e religione. Le riflessioni di Maxwell sulla scienza e la società erano altrettanto profonde. Credeva fermamente che la scienza avesse il potere di migliorare la vita delle persone e di promuovere lo sviluppo sociale. Le sue idee sul ruolo della scienza nella società continuano a informare il nostro pensiero contemporaneo. In conclusione, il genio e l'eredità duratura di James Clerk Maxwell vanno ben oltre le sue scoperte scientifiche. Il suo profondo rispetto per la natura, la sua visione integrata di scienza e fede, e il suo impegno per l'applicazione della scienza a beneficio dell'umanità fanno di lui un modello per tutti noi. Se ti è piaciuta la storia di Maxwell, iscriviti al canale, attiva la campanella e scopri le prossime storie speciali, che ti daranno momenti e concetti che ti cambieranno la vita. Oltretutto commenta il tuo parere è molto importante per noi, sperando di poterti rispondere nel migliore dei modi. Grazie per aver visto il nostro video.